Non mi posso lamentare, perché ogni tanto viene qualcuno e dice ma tu non ti devi lamentare, come non mi devi lamentare? Dice ma guarda un po' indietro a te, non guardare sempre avanti a te e io caccio camminare, sembra così no, io non mi posso camminare, dice ma tu guarda un po' indietro, non guardare sempre avanti e io ho guardato indietro, io ogni tanto mi giro, guardo e mi sono abilito perché c'è gente che sta ancora peggio? no, perché non c'è nessuno a me ecco questo è il guai, io davanti a me, davanti a me vedo tutte facce, questi girano, questi mi guardo, mi giri e non vedo nessuno allora vorrei che sono l'ultimo i guai, sono più rovinato di tutti quanti ho capito